Ciao a tutti ragazzi, qui Blur e come potete vedere dal titolo oggi abbiamo una challenge su Mv2 molto molto bella Diciamo che l'ha fatta molto spesso Pamage, di italiano invece non ho mai visto nessuno che l'abbia mai fatta In più ho un'edizione, probabilmente la prossima settimana verranno sia Frenesi che Tony a casa mia E se voi volete un video con Tony e Frenesi insieme A me non me ne frega un cazzo che a scassi del mondo riusciamo a fare un 3 player su One Pad E ce la facciamo Allora lasciate da subito un mi piace, proviamo ad arrivare sui 1100-1200 mi piace anche per il ritorno comunque di Mv2 sul canale Anche comunque per farmi capire se vi possono piacere queste challenge Magari mettetevene anche qualcuna nei commenti In più come ho detto nell'ultimo video andrò a followare l'ultima persona che mi ha messo una notifica su Instagram Blurs7 Se non mi seguite andatemi a followare Ed è Frenky Alone che si becca il segui già l'ho messo Quindi ragazzi divertiti e se non vi è stato chiaro di lasciare un mi piace Allora ahimè vi sarà chiaro con questa immagine Ciao Ancora vedere la parte più bella della 59 Kid Challenge Quando io il rage quitto dalla lobby non trovo più posto Sarà un po' divertente e un po' vi sentirete tipo strani Per favore, per favore Sì No dai, no, no Me ne facevo due Cheat Sasha Grey L'arrier no, è greve raga Chi cazzo ha tirato l'arrier? No greve il supporto aereo, no greve Buttate l'aereo giù Ma non è possibile Per una volta che mi va bene tutto Mi era andato tutto bene, tutto bene Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo Vaffanculo A PAMASH se arriva a 29 A PAMASH gli dicono vai Red carpet per te Green carpet perché stai negli Optic Fai sta cazzo di 59 Kid Challenge Ma uno può chiamare il supporto aereo in free for all Vorrei sapere come cazzo l'hai chiamato Vorrei sapere come cazzo l'hai chiamato Vaffanculo Ma vai a cagare Vaffanculo Uscita di Grice Noi siamo qui per fare una 59 Kid Challenge, ok? La lobby Non fa schifo Cioè è strana L'unico problema vero di questa lobby Il mio fanboy che mi join a dannatamente qualunque lobby Allora Se volete Una sorta di Mamma mia guarda c'è già il tipo che sta lì sopra Se volete una sorta di consiglio per un 59 Kid Challenge Io vi posso solo dire Che l'unica cosa da effettivamente provare a fare È mantenere Un profilo basso Cosa significa mantenere un profilo basso su Mv2 Su Mv2 mantenere un profilo basso Significa ecco Non sbagliare intanto queste cose Devo sprecare Grice Senza un cazzo di motivo Ma tua mamma come fai? Ma come fai? Ma vaffanculo va Comunque mantenere... Ma dai ma dai ma dai ma dai ti ho appreso Vaffanculo Mantenere un profilo basso Mantenere un profilo basso significherebbe Mezzo camperare Fino al pavolo Una volta che prendi il pavolo in free for all Sappiamo... Ma è la terza volta che cazzo chiamo un predator e mi uccidete il tipo Vabbè una volta che chiami il pay blow su free for all non ti dico che hai fatto Ma ti dico che stai già a buon punto Solo che il problema è che raga qua si mettono tutti contro di me Mamma mia Mamma mia Ma meno male che sto facendo una gran partita Ok 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 Ancora ci siamo Ancora ci siamo Ancora ci possiamo stare Mamma mia ti giuro No 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 Già ma No già Mamma mia Meno male Meno male Meno male Meno male Meno male Eh oh Tuon viper mi romperai i coglioni per tutta la partita eh Sappiatelo proprio Con sicurezza Ricordatevi il 9 Tuon viper Oh stai calmo Non so cosa è successo ma è successo Ho fatto tipo quad splittata tra Deagle Predator E cazzo smazzo Per favore la partita è buona Per favore la partita è buona Maffanculo Rice blink Oh ma pay flow E dai è un po' Ecco è arrivato rice blink No i folks Sta facendo il giro del cazzo Mamma mia il pay flow è incredibile Mamma quanto godo Quanto posso godere Mamma Via 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 Esci ma Allora sta facendo il cambio dell'host Quindi nessuno può giovinare Ti giuro questa è la parte più brutta La parte più brutta Per favore No non mi fa girare Oddio mi ha fatto girare Mi posso sentire male Mi posso sentire male Non mi è mai successo di fare un 50 log Race E mi ha fatto girare nella mia stessa lobby Dai 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 Che è? Comincio mo' Comincio mo' A sbagliare i quick Comincio ora a sbagliare gli hard Com'è la storia Cazzo Mamma meno male Mamma meno male Oddio 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 Lo sapete cosa significa Se chiamola un pay flow Oddio Dammo se Già l'abbiamo ripreso Per favore Doppia col predator Per favore No eh Non devo morire Non devo morire Non devo morire Sì 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 Dai 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 La prendiamo posizione qui sopra Cazzo però uno ha chiamato Il predator Aga significa Che potrebbe aver chiamato Potrebbe chiamare l'harrier Vai pay flow Vai pay flow Vai pay flow Vai pay flow Vai che ci hanno ucciso Vox sta a 12-2 Quello chiama l'harrier No cazzo No 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 E buttaci un'ala di pay flow Ma io non ho parole Ma fammene tu kill pay flow Fammi i tuoi kill Nella stessa partita di prima Uguale Uguale Stato c'è il pello Questo Questo Vox Questo Vox Sta camperando Con l'UMP Facendo sempre Gli stessi giri Nello spawn Cretino Dove prendere Il love Lo love Com'è? Maschile? Femminile? Gesù Mamma mia meno male Sì sì è morto È morto Se sta qui Significa che è morto Dov'era? Dov'era? Rega di che sto impanicato È di poco Mamma che belle Le accoltellate su Su Mv2 Invece che Black Ops 3 Che belle Che belle Dai dai Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Dove sta la gente? Tu madre il FAMAS Sai che ce fa? Non te lo voglio Per non bloccarti La crescita Visto che sarai Un bambino di merda Di due anni Mi sento male Rega Gli stiamo a fa Oddio Gli stiamo a fa Ce ne erano qui Sì 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 È nostra La chiudiamo pure In 360 Giamma non fa cazzate Mamma mia Rega Oh però Il trick ci vorrebbe stare Mamma mia Io ho fatto un pelo Rega Sti cazzi L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta Ha pure rileftato il game Sto uomo di merda Ce l'abbiamo fatta Sì Alleluia Rega È stata Una È stata screziante Come cosa Veramente E Vabbè Io intanto vi saluto Vi dico di lasciare un mi piace Arriviamo a mille mi piace Se volete altre challenge Magari l'89 Hit Race O magari altre cose strane Visto che mi piace fare le challenge Arriviamo a mille Mille cento mi piace Per altre challenge Su MW2 O su qualunque altro code Comunque noi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Mi piace Ciao ciao To go on living That is to go on doing things You don't like doing Which is stupid That is absolutely stupid Better to have a short life That is full of what you like doing